Anche io uso internet, seconda edizione di questo progetto per insegnare agli over 65 ad utilizzare le nuove tecnologie, il computer, la posta elettronica, Skype per parlare magari con i figli che vivono all'estero, insomma un corso che quest'anno si arricchisce di qualcosa in più ed è stato presentato anche oggi nell'auditorium di Estra, per noi c'è Remiglio Mariotti. Perché gli over 65 devono imparare a usare internet? Perché gli over 65 sono una realtà importantissima nel nostro paese, sono persone attive sotto tutti gli aspetti che devono inserirsi pienamente nella comunicazione odierna. Gli over 65 non devono rimanere fuori da questa realtà, devono stare pienamente dentro a questo mondo, quindi è importante fare alfabetizzazione informatica sempre. Gli studenti faranno da tutor agli over 65 in questa seconda edizione, che cosa poi faranno in pratica? Noi abbiamo tantissimi studenti per fortuna in crescita nella nostra università e una parte di questi studenti si specializzano per diventare dei formatori, cioè coloro che faranno lezioni a persone adulte. Durante le lezioni noi invitiamo i nostri studenti a partecipare a attività extra fuori dall'università, questa è una di queste attività. Quali saranno le novità, pratiche e tecniche di questa seconda edizione di Anch'io uso internet? Quelli della ricerca delle informazioni su internet, piuttosto che l'utilizzo di strumenti di comunicazione che offre internet come la posta elettronica, ma anche i social network, piuttosto che programmi come Skype. È stato introdotto anche un argomento nuovo che è quello della sicurezza informatica. Perché la vostra azienda sostiene anche quest'anno questo progetto, anche io uso internet? Perché ci crediamo, perché noi riteniamo che sia una cosa molto importante mettere in relazione proattiva le generazioni più grandi insieme alle generazioni più giovani è un fattore assolutamente essenziale per la tenuta della famiglia e della società in generale. Estra, come si sa, è un'azienda che ha molto a cuore la vicinanza con le famiglie che sono poi i clienti di Estra, noi vendiamo gas ed elettricità ai nostri clienti che sono le famiglie in modo particolare e quindi dare una mano alle famiglie anche per questo versante, credo che sia un passaggio molto importante e qualificante per Estra.